Lavoro in un ristorante e guadagno 10 dollari l'ora. Beh, ma oltre la paga oraria ci sono anche le mance dei clienti da considerare. Ah, è vero! Con l'espressione che ho scritto possiamo calcolare quanto guadagna la cameriera per ogni ora di lavoro. Ma come immagini la quantità di mance che i clienti lasciano non è sempre uguale e cambia molto anche a seconda dell'ora. Le mance non sono una quantità fissa. In un'ora durante il pranzo magari riceve moltissime mance. L'ora dopo può succedere che non arrivino altri clienti o che le mance siano poche. Per questo motivo questa parte dell'espressione le mance è una variabile. Perché varia a seconda della situazione. Ad esempio possiamo immaginare che un giorno durante l'ora del pranzo la cameriera abbia preso molte mance. Diciamo 30 euro. Perciò il suo guadagno totale in quell'ora, se usiamo l'espressione che abbiamo scritto prima, sarà di 10 più, e invece di scrivere mance, adesso scriviamo 30. Perché ha guadagnato 30 euro di mance. E questo sarà uguale a, lo scrivo in giallo, a 40 euro. Ma durante l'ora successiva ci sono meno clienti. Forse è troppo tardi per pranzare, oppure il ristorante accanto ha un'ottima offerta. E in ogni caso, durante l'ora successiva, prende molte meno mance. Diciamo che prenderà solo 5 euro. Se torniamo alla nostra espressione in alto, il suo guadagno in quest'ora sarà la sua paga oraria, 10 euro, più 5 euro di mance, che equivale a 15 euro. Guarda, il valore dell'espressione qui in alto, 10 più le mance, cambia in base al valore della variabile che abbiamo chiamato mance. Di solito, in algebra, non utilizziamo un'intera parola per indicare una variabile. Di solito, preferiamo usare un'abbreviazione, o una sola lettera. In questo caso, invece di scrivere l'intera parola, avremmo potuto scrivere 10 più t, dove t è l'iniziale della parola tips, che vuol dire mance. Poi possiamo chiederci, cosa succede quando t è uguale a 30? Quando t è uguale a 30, avremo... Lo scrivo, quando t è uguale a 30, scriviamo 30 al posto di t, e avremo 10 più 30, che fa 40. Cosa succede invece quando t è uguale a 5? In questo caso avremo 10 più 5, che è uguale a 15. Nessuno ci obbliga a usare la lettera t. In realtà, non siamo neanche obbligati a utilizzare una lettera, anche se è molto comune usare le lettere in algebra. Avremmo potuto scrivere la nostra espressione in questo modo. 10 più x, dove x sono le mance prese in un'ora. La lettera x può sembrarti strana, ma la incontrerai spesso. Oppure avremmo potuto usare 10 più una stella, e la stella rappresenta la quantità di mance che prende la cameriera in un'ora. Forse è un modo un po' strano di rappresentare le mance, ma funziona. E ora spero che tu abbia le idee un po' più chiare su cosa sia una variabile. È semplicemente una lettera o un simbolo che rappresenta una quantità che può variare. Ah, per questo si chiama variabile!